Ciao amici di Giallo Zafferano, oggi costruiamo un old fashion a casa, abbiamo bisogno di un piattino, una zolletta di zucchero e tre drop di angostura. Il piattino serve ad evitare che i drop in eccesso finiscano all'interno del nostro bicchiere e noi non lo vogliamo, uno splash di soda per andare a spezzettare la nostra zolletta di zucchero e andiamo a versare un'oncia di bourbon whisky, guarda lì. Una volta stirrato il tutto andiamo a riversarci sopra un'altra oncia di bourbon whisky, giriamo per benino un pill di arancia e siamo in pole position.